Quando è che ha scoperto di avere questo potere? Da quando la guido. La mia percezione è come amplificata. Vedo cose che prima mi sfuggivano. In più affronto ogni sfida con un controllo che non credevo di avere. È strano. Quando scendo dall'auto, tutto torna normale. Nuova Subaru Outback con sistema Insider e trazione simmetrica all-wheel drive di serie. Ora vedere è potere. Scoprila negli showroom Subaru. Cari amici ben ritrovati, prosegue il nostro viaggio in questo grande gruppo che rappresenta molte case automobilistiche, le più interessanti sul mercato. Roberto Loconti qui con me, il volto che tutti voi conoscete, benvenuti in casa Subaru. Buongiorno a tutti, bentornata Stefania. Siamo qui in corso Ferrucci 24 nel salotto di Torino per presentarvi un marchio di elevatissima qualità come Subaru, la trazione integrale migliore al mondo. Bene, attenzione, l'azienda si chiama Torino 1, è concessionaria ufficiale della casa delle Pleiadi, come mi piace ricordare. Subaru è un'azienda contraddistinta da moltissima sostanza, tantissima tecnologia racchiusa ovviamente in un design che ispira di per sé robustezza, maneggevolezza, l'auto giusto in questi tempi. È così Roberto? Assolutamente sì, hai detto bene, tantissima tecnologia, tantissima sicurezza e tantissime novità. Subaru XV, nuovo Model EAR 2018, tantissima tecnologia a bordo, cambio automatico CVT, sistema iSide, di pre-collisione, tutto abbinato alle forti promozioni in corso. Cinque anni di garanzia, chilometraggio illimitato e tre manutenzioni comprese nel prezzo, quindi tre tagliandi compresi nel prezzo su tutta la gamma Subaru. Ve l'ho detto, grande garanzia, grande affidabilità, venite a conoscere questo marchio se ancora non l'avete fatto, prenotate il vostro personale test drive, c'è questa possibilità, ma Roberto Loconti, protagonista della nostra vetrina televisiva, anche e soprattutto con l'usato, le proposte d'occasione selezionate, anche oggi ne vedremo delle belle? Tantissime vetture accuratamente selezionate per voi, dei prezzi pazzeschi a voi riservati, a voi che ci seguite sempre con molta attenzione, che seguite la trasmissione, quindi carta e penna alla mano e seguitemi. State con noi. Partiamo subito con le vetture aziendali, ne abbiamo tantissime su tutti i marchi rappresentati sul nuovo, in questo caso vi presento due splendide Nissan Micra in allestimento Tecna, full optional, interni in pelle navigatore, cerchi in lega maggiorati, vetture matricolate ad aprile 2017, solamente 4.000 chilometri, 5.200 euro in risparmio dal prezzo di listino. Continuiamo in casa Nissan, non può mancare il crossover super sfizioso per eccellenza come Nissan Juke, venite a scoprire tutte le motorizzazioni a vostra disposizione, benzina turbodiesel, benzina GPL, venite a provarli su strada e a scoprire i loro prezzi, oltre 7.000 euro di risparmio dal prezzo di listino. Spostiamoci poi in casa Toyota, Yaris, librido per eccellenza, motorizzazione del momento, ne abbiamo tantissime per soddisfare tutti i vostri desideri a partire da 9.900 euro. Continuiamo con due vetture di qualità costruttiva elevatissima, quindi Kia Sportage, 1.7 turbodiesel, 20.000 chilometri per quest'auto, 21.000 euro il suo prezzo, forte risparmio rispetto al nuovo, vettura dotata di navigatore interno in pelle, cerchi in lega bicolore. Continuiamo con questa splendida Audi A3 Sportback, vettura dotata di navigatore, cerchi in lega, sensori di parcheggio, venite a scoprire il suo prezzo e venite a provarla su strada. Tantissime le vetture anche per i neopatentati, quindi vetture comode per la città, soprattutto con dei bassissimi costi di gestione. Toyota Ego da 3.900 euro, splendida, super accessoriata, molto personalizzata, questa Volkswagen Up, 8.500 euro il suo prezzo, venite a scoprire tutti i suoi accessori. Continuiamo con altre vetture comode per la città, Toyota Egoo, quattro posti, cambio automatico a partire da 6.900 euro. Spostiamoci sulla cittadina per eccellenza, Smart, a partire da 7.900 euro, turbodiesel e benzina, anche con cambio manuale. Non possono mancare le vetture comode per la famiglia, in questo caso vi presento due splendide monovolume, 7 posti, alla mia sinistra una BMW Grand Tour Air, 2.20 XD, quattro ruote motrici, cambio automatico, interni in pelle, fari full LED, tantissimi accessori, 26.900 euro il suo prezzo. Super economica, lancia Fedra, 8.900 euro, anno 2010, cambio automatico, triplo tetto apribile, sensori di parcheggio, navigatore. Come sempre questa è una piccola parte del nostro ampissimo parco auto d'occasione, vetture pari al nuovo, certificate, quindi vi invito come sempre numerosi a venirci a trovare in Corso Ferrucci 24, avremo sicuramente l'auto dei vostri desideri, certificata e garantita. Come promesso da Roberto Loconti, qui in Corso Ferrucci, l'azienda ha riservato per voi moltissime opportunità commerciali, per voi che desiderate sostituire la vostra auto con un'auto pari al nuovo, ma usato, ricondizionato, anche perché questo grande gruppo di aziende che rappresenta tante case automobilistiche è in grado di offrirvi davvero un panorama vastissimo di vetture d'occasione. Assolutamente sì, questa era solo una piccola parte delle nostre vetture pari al nuovo, vetture d'occasione, quindi tutte ricondizionate, certificate e soprattutto garantite per soddisfare tutte le vostre esigenze. Quindi se non avete visto l'auto che fa per voi in questo momento non esitate a contattarci, non esitate a venirci a trovare, avremo sicuramente la vettura pari al nuovo che fa al vostro caso. Bene, noi abbiamo trasmesso da Corso Ferrucci, l'azienda protagonista era concessionaria Subaru, Torino 1, ma ricordiamo che voi rappresentate, come abbiamo detto, davvero il panorama automobilistico mondiale. Tantissimi marchi rappresentati con molto orgoglio, quindi tantissimi marchi di qualità, soprattutto vi ricordo Toyota, Nissan, Subaru, Kia, Mitsubishi e Lexus. Davvero, ricordiamo soprattutto l'opportunità di entrare dalla porta di accesso principale con tutti i servizi garantiti, non soltanto la consulenza e la vendita, ma anche la post vendita. Grazie Roberto Loconti, buon lavoro. Grazie mille Stefania, grazie a tutti voi per l'attenzione, vi aspettiamo come sempre numerosi qui in Corso Ferrucci 24. Adesso non andate via, il viaggio continua. Cari amici ben ritrovati, siamo ancora una volta insieme, benvenuti da Adimotors a Torino in via Reis Romoli, il volto che tutti voi riconoscete è quello di Domenico Pellecchia, un grande piacere ritrovarti. Grazie a te, ben trovati a tutti. Grazie a te soprattutto per l'accurata selezione di vetture d'occasione che metti a punto per i nostri amici telespettatori. E Domenico è una persona di grande competenza, di grande esperienza, in grado di soddisfare poi ogni vostra esigenza anche personalmente, è così. Grazie a te Stefania, grazie. Che cosa hai preparato per noi, vetture un po' di tutte le marche? Un po' di tutte le marche, ho cercato di selezionare tra le migliori dove possiamo fare dei prezzi anche più particolari e spero che veniate numerosi a trovarci. Per il momento ce le guardiamo in tv, state con noi. E partiamo con la prima che è una bellissima Fiat Panda, un'auto cittadina bellissima 1200 con cambio automatico, di fatti si chiama Dualogic, del 2010 con chilometri 69.000 di colore argento, unico proprietario ideale anche per neopatentati e la proponiamo a 5.000 euro. E partiamo con la seconda che è una Lancia Y1200 del 2010 con 42.000 chilometri di colore grigio, ideale anche questa per neopatentati, appartenuto a un unico proprietario e la proponiamo sempre a chi segue la trasmissione tv motori tv a 6.000 euro. Sempre in casa Fiat questa bellissima appunto 1200 classic 5 porte del 2008 ha percorso 73.000 chilometri e di colore bianca, anche questa va bene per neopatentati, ben tenuta e per chi segue la trasmissione la proponiamo a 3.500 euro. Proseguiamo con questa bellissima Kia venga molto ricercata, 1.4 diesel, novembre del 2011 ha percorso 135.000 chilometri di colore bianco, unico proprietario full optional e la proponiamo a 8.000 euro. E che dire di questa bellissima Peugeot 407 HDI del 2005 ha percorso appena 88.000 chilometri, unico proprietario di colore argento con interni in pelle, sedili regolazione elettrica, navigatore satellitare e la proponiamo a solo 4.000 euro. E concludiamo con questa bellissima Alfa Romeo Giulietta 1400 con impianto GPL dell'anno 2014, appena 66.000 chilometri di colore grigio scuro, unico proprietario e la proponiamo a 12.000 euro. Grazie Domenico, preziosissimo, oltretutto condito da grande simpatia, la specialità del momento qui da Adi Motors sono questi finanziamenti light, leggeri. Esatto, leggeri che consentono ovviamente a tutte le tasche di avere un'auto anche più importante, più preziosa, con reattrazioni che vanno fino a 84 mesi, per cui chiedeteci un preventivo anche a riguardo di questo e saremo ben lieti di farvelo vedere insomma. Bene, ovviamente queste sono proprio per rispondere alle vostre esigenze, sono tempi in cui un piccolo sborso mensile è particolarmente gradito, ricordiamo dove ti trovano? In via Reiseromoli 235 AD Motor. Tutta l'esperienza, la competenza e la simpatia di Domenico Pellecchia. Ciao, alla prossima volta in TV. Ciao a te Stefania. E grazie a tutti voi, non andate via, state ancora con noi. Carissimi ben ritrovati, il mio benvenuto va a Enrico Brucato. Se naturalmente c'è Enrico al mio fianco, io sono ospite della concessionaria Chia. Mi trovo esattamente in Corso Giambone 33 a parlare naturalmente di questa splendida gamma e di tante novità. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Tantissime novità qua a Chia Torino 1, qua in Corso Giambone al 33. Non saprei quasi da dove partire, ma da qualche parte dobbiamo partire. Dal noleggio a lungo termine riservato ai privati, guarda. Dopo l'enorme successo che abbiamo avuto nel mese di gennaio per quanto riguarda il noleggio a privati, abbiamo deciso di raddoppiare l'offerta su quella che è l'automobile del momento. La Chia Niro ibrida, quindi 5 anni di bollo gratuito, circola sempre, nessun tipo di blocco del traffico. L'offerta qual è? Per quanto riguarda il noleggio a privati abbiamo una scontistica del 20%, avete capito bene, del 20% che questo mese si va ad aggiungere a 2.500 euro di extra bonus solo ed esclusivamente per il noleggio a privati. Vi aspettiamo numerosissimi. E poi non dimentichiamo che continua la campagna rottamazione sul resto della gamma, per esempio? Continuiamo con la campagna rottamazione sul nostro splendido Sportage, due ruote motrici piuttosto che quattro ruote motrici. Ricordo a tutti che esiste anche il cambio automatico doppia afflizione sul due ruote motrici. La campagna rottamazione per le vetture in pronta consegna tocca i 4.500 euro. Andando oltre troviamo su Rio e solo su alcune Rio in pronta consegna, vi dico che ne abbiamo soltanto più 5, uno sconto rottamazione che tocca i 3.600 euro, avete capito bene, 3.600 euro. Andando avanti troviamo la Picanto che addirittura abbiamo 2.250 euro, ma adesso tenetevi forte alla sedia e alla poltrona perché su Sorrento in pronta consegna andiamo ad avere 9.000 euro di campagna rottamazione. Quindi non vi resta che recarvi qua in Corso Giambola 33 e scegliere la vostra chiera. Bene, tempo di saldi, i saldi qui pullulano, ma pullulano anche le novità, le novità e le grandi iniziative perché è imminente l'arrivo di una nuovissima vettura, molto frizzante. L'aspettavamo da diverso tempo, due anni fa è stata presentata al Salone di Francoforte come concept, adesso è arrivata in Salone, la presentiamo il 22 di febbraio, faremo poi aperto il 24 e il 25 della nuova Kia Stinger, quindi la nostra gran turismo con motori eccezionali, ve ne dico soltanto uno, un 3.300 benzina da 270 cavalli per rendere l'idea, vi aspettiamo numerosissimi per vederla e ovviamente provarla su strada. Certo, una vettura molto performante che vi invito assolutamente a scoprire qui in Corso Giambola 33, esaustivo, competente come sempre, hai detto tutto, anzi di più, in casa Kia il meglio per voi, grazie Enrico alla prossima. Grazie a te e grazie a tutti. Hai superato i luoghi comuni, hai cambiato le regole, supera anche il vecchio concetto di auto, passa all'ibrido Toyota, dimentichi prese e ricariche e guida in città per oltre il 50% in elettrico, a zero emissioni e zero consumi. Continua l'operazione ibrido per tutti, Yaris Hybrid è tua, da 13.900 euro. Carissimi benvenuti in casa Toyota e soprattutto benvenuti in compagnia di Central Motors, io mi trovo a Torino in Corso Giambone 33 e con grande piacere saluto Edoardo Montalpano che rivedo, ciao. Grazie, grazie, benvenuti a tutti. Allora oggi andremo a scoprire il nostro usato, tanti modelli di qualsiasi anno, un usato chiaramente selezionato, sempre disclusivamente per voi. Bene, una puntata quindi, come tu anticipi, dedicata all'assortimento di vetture d'occasione, qui ce ne sono veramente tante, denominata la città dell'auto, per la quantità di prodotto, che ovviamente per ragioni di tempo non potremo vedere. Non dimentichiamo comunque che tutta la gamma Toyota è a vostra completa disposizione, con delle offerte irripetibili. Beh, certamente, siamo concessionari Toyota, per cui tutti i modelli della Toyota li potrete trovare e naturalmente vi invito anche a venirli a provare. Certamente, è indispensabile il test drive per capire come funziona e come apprezzare anche comunque, come amare la vostra prossima vettura. Bando alle ciance, andiamo a scoprire l'usato, selezionato, certificato di qualità, come ha detto Edoardo Montalbano. Parola di Montalbano. Allora, seguitemi, perché vi farò vedere alcune chicche del nostro usato, come per esempio questa, una Fiat 500, la 595, turbo 160 cavalli, turismo, venite a vedere perché è veramente molto, molto bella, del 2014, scusate, poi una bellissima Mercedes GLK, diesel, chiaramente, Blue Efficient Sport, una Nissan Note, questa è una vettura che, per alcune esigenze, senza andare a spendere grosse cifre, e soprattutto vetture molto, molto grosse, questa vi dà la possibilità di avere un'ampia abitabilità e di carico. Bene, continuiamo con una Citroën 3C, Picasso, esclusiva, sempre diesel, qui parliamo di una vettura del 2014, pensate, 11950, dove chiaramente direte, ho visto Montalbano in TV, qui è compresa chiaramente la voltura, mi raccomando, ricordatevi questo particolare. Poi ancora, Nissan, una Juke, sempre diesel, la versione Tecna, quella più completa, del 2013, quindi anche questa molto recente, una BMW, per chi piace questo marchio, è una serie 1, bellissima, diesel, con 59.000 km, venitela a scoprire, questa è bella, questa è una vettura, veramente, con un chilometraggio così, e da prendere al volo. Allora, cosa possiamo farvi vedere ancora? Bellissimo questo, Land, bellissimo, Discovery, questa qui è una vettura appena arrivata, venitela a scoprire, mi raccomando, dite, Montalbano, l'ho visto in TV, Naturalmente, io vorrei anche parlarvi, di finanziamenti, certo, perché tutte le nostre macchine, sono acquistabili, con un piano finanziario, un piano finanziario, che noi chiamiamo, EA Drive, quindi potrete, trovare, studiare insieme a noi, la vostra rata, più adeguata, quindi venite, scoprite il nostro usato, chiedeteci, una formula finanziaria, per prendere, una vettura incredibilmente bella, con le vostre esigenze. Ed eccoci, siamo al secondo piano, per cui potrete vedere anche, le altre autovetture, che abbiamo selezionato per voi, che abbiamo curato per voi. Allora, parliamo anche di vetture, piccole da città, per cui abbiamo, una Ford B-Max, abbiamo una macchinina piccola, qua, un'altra, un'altra vettura Nissan, sempre una note, abbiamo una micro nuovissima, nuovissima, venitela a scoprire, bene, un Kia Sorento, andiamoci a trovare, qualche altra macchinina, vediamo un po', andiamo a vedere, scopriamo, scopriamo, una, ah, una Croma, perché no? Facciamo vedere anche questa, una Croma Multijet Motion del 2010, venitela a scoprire, naturalmente, finanziamenti, naturalmente, potete dare assicurazioni, venite, dovete dire, ho visto Montalbani in tv, e avrete la voltura in omaggio. Bene, siamo in chiusura, per ricordarvi, che la scelta, giusta, in casa Toyota, è anche l'ibrido. Beh, il futuro, il futuro, venite quindi a scoprire, venitele a provare, e è una cosa importantissima, a cui noi ci teniamo tantissimo. Il test della verità. Assolutamente, il test della verità, dove potrete scoprire, che almeno il 50% del percorso, lo farete in modalità elettrica. Bene, Edoardo Montalbano e il suo team, è a vostra completa disposizione, per consigliarvi il meglio, e scegliere insieme a voi, la soluzione più conveniente, alle vostre esigenze. Io ti ringrazio, alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti voi, mi raccomando, dite, ho visto Montalbano in tv. Corso Giambone 33, Central Motors a Torino, alla prossima.